Abbiamo nuovamente raggiunto la sede della USB e quindi il coordinatore provinciale Franco Rizzo perché abbiamo necessità di fare delle dichiarazioni, delle precisazioni riguardo a un comunicato stampa che sta circolando, appunto fatto da AM Invest Co e poi anche perché pare che ci siano dei soggetti che stanno dichiarando il falso sulla sentenza. Sì, fortunatamente c'è una sentenza che parla chiarissimo, poi come a Taranto purtroppo da troppo tempo alcuni soggetti fanno, c'è tanta disinformazione che tenta di creare confusione rispetto a quella che è stata una storica vittorica dell'USB che ha conseguito ieri nel tribunale di Taranto. Il comunicato stampa di AM Invest Co che tra l'altro è pietoso da un punto di vista, ridicolo dall'altro, continua a fare disinformazione totale pur dicendo nella prima parte un fatto vero ma non spiegando bene sostanzialmente. Da cui è comunicato appare quasi che AM Invest Co abbia vinto la causa, in realtà non è così, anzi è così ma è stata condannata non a AM Invest Co ma AMI, che adesso vi spiego che cos'è, alla condotta antisindacale. Perfetto, quindi con l'aiuto di questa lavagna andremo proprio a spiegare ancora meglio e a chiarire questi punti che potrebbero essere non chiari, quindi noi vogliamo essere precisi. Allora, quando abbiamo deciso di fare il 28 a un certo punto abbiamo deciso con l'avvocato di attaccare tre soggetti che erano Ilva in AS, Arcelor AM Invest Co Italy S.p.A. che il giudice identifica come AM e Arcelor Mittal Italia S.p.A. che il giudice identifica come AMI. In realtà il Vena S. è la società che deteneva prima Ilva, AM Invest Co Italy S.p.A. è la società che ha acquisito Ilva, Arcelor Mittal Italia S.p.A. è una controllata di AM Invest Co S.p.A. Sostanzialmente è questo, quindi lo scrivo alla lavagna così è abbastanza chiaro. Ecco qui, quindi riassumiamo quello che ci ha appena detto il coordinatore Rizzo per chiarire meglio. Il Vena S.p.A. E poi Arcelor Mittal Italia S.p.A. Allora, Ilva in AS, perché questo è scamotaggio? Per evitare sostanzialmente che a un certo punto presentiamo ricorso e una delle società in oggetto potesse dire guarda che non sono io il soggetto deputato per legge a fare la scelta del personale, e quindi per guadagnare tempo sostanzialmente abbiamo fatto ricorso a tutti e tre, anche se sapevamo dall'inizio che il Vena S. non c'entrava assolutamente nulla, e abbiamo preferito paradossalmente andare a pagare le spese legali di due società, perché siamo stati condannati anche noi a pagare le spese legali di queste due società, perché il giudice logicamente ha ritenuto infondato la richiesta di comportamento antisindacale nei confronti di due società. E lo dice qui il giudice. Precisa che l'USB propone l'articolo 28 nei confronti di Ilva in AS e nei confronti di AM Investor Italy S.p.A. di seguito a AM e di ArcelorMittal Italy S.p.A., che identifica come AMI e chiamerà AMI nel corso del procedimento. Quindi le prime pagine del procedimento del giudice sono per dire che la richiesta di USB è infondata rispetto a Ilva in AS. Quindi Ilva in AS la cancella il giudice. Perché? Perché Ilva in AS si limita a cedere allo stabilimento ad Arcelor AM Investor Italy S.p.A. Il giudice anche qui cancella AM Investor, rigetta la domanda su AM Investor perché semplicemente acquisisce lo stabilimento. Accoglie la domanda il giudice nei confronti di ArcelorMittal Italia. Ecco, ne consegue il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti dell'ILVA e qui spiega perché. Perché ILVA ha solamente ceduto. Poi ne consegue il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti dell'AM perché ha solo comprato. La domanda invece è fondata nei confronti dell'AMI, che sarebbe ArcelorMittal Italia S.p.A., che ha rilevato il ramo d'azienda il 18 settembre del 2018. Quindi è lei la società incaricata di gestire ILVA di Taranto sostanzialmente, lo stabilimento di Taranto e le eventuali assunzioni. Quindi, su questo facciamo un chiarimento. Come risponde? Ecco, lo dico a parole mie, forse è più chiaro. È come se la condannata del tribunale dicesse che a un certo punto è stato condannato Francesco Rizzo. E io dicessi no. Non è stato condannato Francesco Rizzo che abita a Via Tamarigi numero 8. È stato condannato il segretario dell'USB, che è la stessa accusa di Taranto. Quindi, diciamo, è stato molto poco elegante da parte di Aminvestico fare un comunicato stampo in cui dice A noi il giudice ha rigettato tutte le domande. Sì, è vero, ma la vostra controllata le ha accolte, che è lei sostanzialmente quella che... Sono la stessa persona sostanzialmente. Cosa dice il giudice anche su questo? Perché se ne sono dette tante. A un certo punto, ieri mattina, correva voce che il giudice ci avesse dato ragione, ma avesse sostanzialmente detto Rifate le graduatori e quindi chi stava dentro stava fuori e tante altre cose che si sono dette da soggetti che secondo me hanno una caratteristica. O sono in mala fede o sono ignoranti e parlano così, giusto per aprire la bocca. In ogni caso è bene fare chiarezza. È bene fare chiarezza. Allora, il giudice dice che la domanda è fondata e quindi dice sostanzialmente, rispetto alle cose che USB ha denunciato, che il prioritario criterio delle competenze professionali è rimasto sfornito. Quindi noi diciamo, gli accusiamo, guarda che i criteri che tu dovevi applicare in realtà non sono stati chiari e tu hai fatto come hai voluto, nella fase di attuazione dell'accordo, di idonea specificazione. Poi il giudice dice, ancora più radicale si rivela l'inadempimento in relazione al criterio sussiderio costituzionale dal punteggio derivante della media ponderata dall'anzianità di servizio dei carichi familiari. Anche su questo il giudice dice, là non ci avete fatto capire nulla. Così che non è possibile ricostruire il meccanismo di interazione in concreto degli stessi, cioè i vari criteri come interagivano fra di loro per emettere poi l'eventuale classifica che consentiva ai lavoratori di capire quale punteggio. In ogni caso, come è stato unificamente rifiuto agli informatori, cioè sia dai nostri che anche quelli di Arsola Mittal che hanno ammesso, né i punteggi individuali acquisiti dai singoli lavoratori in forza alla interazione dei due criteri, né tantomeno le graduatorie derivanti dalla comparazione tra i punteggi individuali sono stati mai comunicati ai sindacati. Quindi il giudice ci dà ragione perché dice ha ragione l'USB, non avete né dato i criteri né tantomeno le graduatorie che è l'altra cosa importante prevista all'interno dell'accordo. Eppure si infatti, dice il giudice, obblighi informativi discendono direttamente dal paragrafo terzo, lettera A.3, lettera B dell'accordo sindacale stipulato in data 6 settembre. A coloro che dicono che non bisognava firmare l'accordo, io dico quell'accordo invece ci dava pure le garanzie e il giudice le riporta. E infatti il monetaggio e il confronto, dice il giudice, presuppongono necessariamente quale condizione di effettiva e serietà degli stessi la comunicazione dei punteggi attribuiti ai lavoratori fuggibili in eccedenza. Perché? Perché il giudice dice che il confronto c'è stato, però attenzione, per il sindacato e i lavoratori per svolgere la propria funzione hanno comunque bisogno dei punteggi attribuiti rispetto alle classifiche che tu hai fatto. Quindi il giudice dice che deve a questo punto rilevarsi che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro deve dare puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative. Quindi da ragione a noi. Onde consentire la verifica della conformità del comportamento datereale ai generali principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, non essendo ammessi elementi di discrezionalità. Quindi il giudice dice che in fasi come questa non ci sono elementi di discrezionalità, non puoi decidere tu. Nell'accordo ci sono scritti dei criteri, devi applicare quelli e tu devi dare la possibilità al sindacato che è il soggetto rappresentante e al lavoratore stesso di poter verificare se tu hai attuato correttamente quanto è scritto nell'accordo. Nella pagina successiva, qui, il giudice dice non possiamo dubitare che questo inadempimento, quello di prima, degli obblighi informativi in questione costituisca condotta lesiva dell'attività sindacale. Scritto chiaro. Tant'è vero che, dice dopo, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e concertazione previsti in favore del sindacato costituisce condotta antisindacale suscettibile di essere contrastato con il provvedimento di ripressione previsto dall'articolo 28 dello Stato dei Lavoratori, che è quello che abbiamo presentato noi. Nel caso in esame è palese che la omessa comunicazione delle concrete modalità applicative del criterio prioritario delle competenze professionali determina una grave mancanza di trasparenza nelle scelte datoriali. Quindi il giudice ha detto non sei stato trasparente, che preclude di fatto ai sindacati, oltre che ai singoli lavoratori, di esercitare un effettivo controllo sulla correttezza di tali scelte. Chiarissimo. Questo è italiano e lo dice il giudice De Napoli. Quindi, sostanzialmente, conclusivamente, il giudice deve dichiararsi antisindacale la omessa comunicazione da parte di detta società, limitatamente ai casi di eccedenza di personale fungibile rispetto alle specifiche funzioni richieste dalle esigenze aziendali e li condanna entro 60 giorni, vi leggo il paragrafo, il giudice, ricordano sostanzialmente delle concrete modalità applicative del criterio delle competenze professionali e, a parità di queste, dei punteggi delle corrette datorie relative all'attuazione dei criteri sussidiari di anzianità di servizio e carichi familiari, nonché ordinarsi la cessazione della suddetta condotta e la rimozione dei suoi effetti mediante le effettuazioni in tale comunicazione alle organizzazioni sindacali, firmatare dell'accordo stipulato il 6 settembre. Compresa la ricorrente, cioè noi, entro un termine che, in ragione della complessità degli adempimenti preschietti, si reputa congruo determinati misure di 60 giorni a far data dalla comunicazione del presente decreto. Quindi gli dice, tu ora, entro 60 giorni, mi tiri fuori le classifiche. Attesa la già evidenziata rilevanza sociale della vicenda, ha tresi opportuno ordinare all'AMI la fissione della parte dispositiva del presente decreto nelle apposite bacheche dello stabilimento Siderugio di Taranto. Per un periodo di 15 giorni consecutivi a far data dal giorno successivo alla comunicazione dello stesso decreto. Quindi dice, ti condanno, così come è previsto l'articolo 28, e devi appendere per 15 giorni nelle bacheche e devi dire che hai perso ricorso con l'USB. E questo è il passaggio, tra l'altro, che smentisce coloro che dicevano che per uno che ne rientra ce n'è uno che ne riesce. Non appare oltrone osservare a questo punto che il presente decreto non può incidere sui diritti acquisiti dai singoli lavoratori, sicché restano ferme le assunzioni già effettuate in attuazione dell'accordo sindacale del 6 settembre 2018. E qui poi condanna loro alle spese. Questa è la sentenza. Poi ci si può giocare con le parole. Io ho detto, chi gioca con le parole lo fa o perché è in mala fede, oppure perché è ignorante e non ha la capacità di leggere la sentenza. Però a questo punto sarebbe meglio stare zitto. La cosa che ci tenevo a precisare era questa sostanzialmente al netto di tutto quello che vanno dicendo. Mi spiace poi constatare che ci sono alcuni soggetti che dovrebbero rappresentare i lavoratori che invece di essere contenti che c'è una sentenza che mette nelle condizioni quella fabbrica di non avere 8200 dipendenti e basta. Ma questa sentenza dice che 8200 più, perché adesso quando usciranno le graduatorie tutti quelli che stanno all'interno della graduatoria e che sono stati erroneamente messi fuori hanno il diritto di rientrare sostanzialmente al lavoro. Quindi io credo che ne dovrebbero gioire tutti coloro che i lavoratori li rappresentano e ci tengono ai lavoratori. Io volevo precisare questo per evitare tutti questi numeri polemiche che scattano, soprattutto sui social network e lo dico con tanta pazienza. Non risponderemo più perché non è possibile rispondere al primo che si alza la mattina e siccome vuole fare polemica perché magari vuole apparire o perché ha un interesse proprio, a un certo punto tenta di negare la verità, addirittura tentando quasi di dire che anche il giudice De Napoli ha mentito. Ribadisco, non risponderemo più a questi personaggi. Tra l'altro su questa vicenda parleranno i fatti, i fatti sono questi. Mi permetto di dire, ma senza polemica, le chiacchiere le lasciamo agli altri come abbiamo sempre fatti e questi sono i fatti. I fatti sono che c'è la più grossa società produttrice di accello a livello mondiale che è stata condannata su un articolo 28 proposto dal sindacato di base dell'Ilva di Taranto che è nato appena sei anni fa. Questa è la verità, la vittoria non è la nostra, è di tutti i lavoratori e a un certo punto quello che non capisco è perché alcuni soggetti che raccontano di essere contro Mittal a prescindere sono sempre i primi a far rilevare che USB a me sembra che fanno finta di andare contro Arcelor Mittal ma in realtà come dire sono al fianco di Arcelor Mittal. Grazie.